Sei contenta di avere rotto le palle a tutti? Hai detto a dei colleghi che se non avessero licenziato me avrebbero perso il bonus. Non l'ho mai detto. Sei senza cuore. Perché non ci provi? Ma sembrerà che chiedo l'elemosina. Ma no. Non devi farti abbattere. Devi andarci. Prima di scegliere hanno esitato, hanno pensato a te. Sì, ed è per questo che devi vederli uno per uno nel weekend. Mi scusi se glielo chiedo, ma per me è importante vederlo, perché può aiutarmi a non perdere il lavoro, a non finire disoccupata. Non ho votato contro di te, ho votato per il bonus. Non pensi che cambieranno idea? Mi metto al loro posto. Mille euro. Io voterò per te. Grazie infinite. Quante sono le persone che rinunciano al bonus? Quattro con te. Ne devo vedere ancora nove. Ci riuscirai, ne sono sicuro. Non ti importa che non facciamo più l'amore da quattro mesi? Sì, ma so che lo rifaremo. Notizia bomba per tutti gli appassionati di cinema e non solo. Quale stella della WWE avrà il ruolo del cattivo in Bond 24? Avete indovinato? Dave Batista. L'attore, fresco protagonista dei Guardiani della Galassia, sarà lo scagnozzo Hinks, personaggio descritto come estremamente fisico con un passato sportivo. Le riprese di Bond 24 inizieranno il 6 dicembre di quest'anno e la pellicola uscirà nelle sale il 6 novembre 2015. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite al cinema. A presto.